Ciao a tutti ragazzi bentornati su Elden Ring e siamo qui alla Cuglia degli Eretici nella terra gigante e vi mostrerò come fare la torre. Bene, andiamo. E' quello che mi consiglio di prendere. Chiudiamo il piede. Vediamo che c'è il segno contro luce si vede. Bene. Ecco. Vedete. Non mi metti più. Bene. 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 Ah Ah Qua Ah 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 Bene Arrivederci Prendiamo Ricompensa Bene ragazzi Come si fa e ci vediamo prossima Ciao a tutti